Ma hey, salve signori, come state? Come va la vostra esistenza? Questo video per molti di voi probabilmente sarà uno dei primi video che guarderete nel mio canale dato che ultimamente ho avuto un incredibile aumento di iscritti, un'incredibile ondata sono passato tipo da 610 a 690 in una settimana, che è qualcosa di assurdo a causa dei video tutorial delle speedrun che sono andati molto bene e a causa anche delle reaction di Parrins e se non sapete chi è, è uno streamer che ha fatto una reaction ai miei video tutorial di speedrun essendo lui uno speedrunner e niente, quindi se siete nuovi del canale, ciao, io sono l'ennesimo canale di gameplay e faccio diversi tipi di contenuti su diversi videogiochi l'unica cosa che accomuna tutto ciò è che sono un coglione essenzialmente e niente, ditemi che cosa ne pensate anche di altri video non tutorial se siete nuovi e questo è uno dei primi video che state guardando comunque, questo video è A, in post commentary quindi sto commentando il gameplay a posteriori rispetto a quando l'ho registrato e B, sto giocando a una Skyward che cazzo sto dicendo? sto giocando delle Skyward e sto facendo questo semplicemente perché non potevo registrare un survival game perché mi avrebbe richiesto troppo tempo e non potevo registrare un video in live commentary perché mi avrebbe richiesto troppo tempo alla fine il mio canale si può riassumere con tre parole non ho tempo, non ho mai tempo più che altro in realtà adesso il tempo ce l'avrei ma devo ancora arrivare a quell'equilibrio organizzativo per cui devo appunto smistare tutti gli impegni in vari momenti della settimana e a trovare il tempo di fare YouTube in una maniera onesta quindi mi dispiace se è l'ennesimo video in post commentary so che a molti di voi non dà fastidio a me un po' spiace perché mi piace fare video in live commentary quindi li farò in futuro non temete, sarà così comunque in queste Skyward ho distrutto incredibilmente tutti i miei avversari cioè non so cosa avevo quel giorno ero incredibilmente forte infatti ho vinto tipo tre Skyward su quattro alla fine si sa sono il best titan in Skyward ovviamente scherzo ogni tanto faccio certe cagate incredibili comunque in questo video non voglio perdermi troppo in chiacchiere nonostante io l'abbia già fatto e voglio parlare di due argomenti o di due cose il primo è un argomento etico su cui dibattere un po' in realtà non è proprio un argomento nuovo di cui io non abbia mai parlato ne ho parlato diverse volte in live ed è un argomento che si ricollega molto anche ad altri video che ho fatto nel canale che è la retrogradicità di alcuni genitori non so se esiste come sostantiva o comunque alcuni genitori un po' retrogradi e cosa penso a riguardo mentre la seconda cosa di cui volevo parlare sono una serie di cambiamenti che abberranno nella mia vita da content creator sul web comunque non esitiamo cosa ne pensate dei genitori della mentalità retrograda e con genitori della mentalità retrograda che ovviamente hanno una mentalità retrograda per me cioè questa è una mia opinione intendo tutti quei genitori che dicono non ti compro il computer perché i videogiochi fanno male non ti faccio collegare l'account amazon al tuo account twitch perché non voglio regalare soldi a quei fannulloni che non fanno niente questo intendo con genitori dalla mentalità dalla mentalità o non so parlare oggi per retrograda ed è una cosa che a me fa girare il cazzo fa proprio girare il cazzo perché penso cioè adesso uno streamer magari streama 8 ore al giorno ok? uno youtuber adesso edita i video 8 ore al giorno ma qual è il motivo? e poi se fosse così facile perché non lo fanno tutti? cioè perché non sono tutti youtuber o streamer? perché non è facile non è fottutamente facile quindi a me tutti questi pregiudizi fanno un po' girare il cazzo poi appunto ripeto ho parlato già in altri video delle mie opinioni ad esempio ho detto che secondo me i videogames sono arte secondo me appunto twitch e youtube sono dei lavori al pari di altri quindi non voglio soffermarmi più di tanto su questo punto però volevo dirvi che mi dispiace molto se avete dei genitori così perché io la trovo una cosa stupida sono io l'unico oppure anche voi che siete delle nuove generazioni la pensate nello stesso modo perché cioè avere ancora questa mentalità che fare twitch sia una roba di sedersi al computer e divertirsi sì e no cioè è un lavoro come un altro è come un attore come se tu dici guarda l'attore si mette lì e fa le faccette è molto più complicata di così la cosa anche se da fuori potrebbe sembrare facile alla fine è sempre intrattenimento e uno deve essere bravo a intrattenere quindi boh davvero non capisco questi genitori io nella mia personale esperienza ho avuto fortuna ho avuto dei genitori non retrogradi e molto aperti mentalmente o meglio mi dicevano di non giocare troppo ai videogiochi ma perché io ci giocavo tanto cioè ci giocavo tante ore al giorno e questa è una cosa che in realtà secondo me vale in generale cioè se giochi 600 ore a un gioco tutto il giorno non esci mai ti muovi solo per mangiare magari comunque è giusto diversificare perché ma anche se fosse leggere cioè se uno sta sul libro a leggere tutto il giorno secondo me pure quello è sbagliato cioè qualsiasi cosa portata un po' all'esagerazione è sbagliato come forse mi avevano detto alcuni di voi nei commenti di uno degli scorsi video comunque sto distruggendo i miei avversari come potete vedere cioè sono incredibilmente bravo e devo dire che dopo aver giocato la 1.16 andare nell'acqua della 1.8 è una cosa cioè di una lentezza disarmante e comunque appunto ho avuto dei genitori abbastanza aperti quindi che non mi hanno mai fatto pesare niente non mi hanno mai fatto pesare ad esempio la mia passione però ad esempio ecco ad esempio quando avevo degli amici online credevano che quella online non fosse un'amicizia anche questa cosa qua mi fa un po' storcere il naso cioè siamo nel 2021 siamo connessi dalla tecnologia perché non posso trovare degli amici online e perché devono essere meno importanti di quelli dal vivo sì è vero ci sono dei rapporti diversi dal vivo sì è vero hai un tipo di rapporto diverso ma non per questo quelli online sono minori non so se mi spiego oppure un'altra cosa un altro fatto che riscontro spesso in alcuni di voi in live che mi dicono i vostri problemi vogliono che andiate bene a scuola e se andate bene a scuola vi comprano le cose che volete no? e a me fa ridere perché cioè paradossalmente al giorno d'oggi raga essendo un attimo sinceri studiando arte latino italiano se hanno meno sbocchi nel futuro ma come lavoro proprio a livello lavorativo che giocando ai videogiochi cioè pensate adesso a quanto vince uno vincendo un torneo di League of Legends mondiale pensate a quanto guadagna adesso uno che lavora come content creator sul web cioè sono dei lavori che hanno molti molte più potenzialità invece per i genitori no sembra che studiare latino ancora oggi ti dà più possibilità di lavoro non lo so comunque vabbè questo è quello che penso io ditemi che cosa ne pensate nei commenti ditemi se siete d'accordo ditemi se secondo voi invece sparo una marea di puttanate ditemi anche il perché magari senza insultarmi grazie e come vedete cioè vinco una Skywars dietro l'altra quindi sono fortissimo comunque passiamo alla seconda parte di questo video ovvero volevo parlarvi di alcune novitè che accadranno nel canale non so perché l'ho detta alla francese novitè comunque punto numero uno d'ora in poi ogni aggiornamento lo dirò su Instagram ok quindi se farò un open lobby di Among Us lo dirò su Instagram non più su YouTube questa è l'ultima volta che lo dico su YouTube questo venerdì pomeriggio farò un open lobby di Among Us quindi se volete venire a giocare con me ad Among Us entrate nel mio Discord e ci divertiamo un po' insieme e poi ovviamente uscirà un video di YouTube editato da quell'open lobby ma a parte questo ragazzi questa è davvero l'ultima volta in cui parlo di un open lobby in un video perché ha più senso ha più senso utilizzare Instagram per questo Instagram è proprio un social che ho aperto per fare comunicazioni e per dare comunicazioni a voi quindi non ha senso che io sprechi tempo anche nei video per renderli più noiosi per dire ragazzi sarò in live su Twitch questo giorno questa ora ve lo dirò tutto su Instagram poi tra l'altro volevo anche dirvi che probabilmente cambio un po' il mio canale cioè modifico un po' la frequenza dei video con cui escono i miei video che cazzo ho appena detto vabbè avete capito insomma modificherò la frequenza dei video e forse non sarà più diciamo prestabilita cioè magari tornerò a pubblicare un video quando me lo sento e non per forza pubblicarlo nelle date prestabilite quindi se ogni tanto vi accorgete che per qualche giorno non esce un video è perfettamente normale è più perché mi sento più libero io e meno costretto a fare video quando magari non ne voglia piuttosto che appunto dover per forza portarvi un contenuto anche contro la mia stessa volontà diciamo e aspettate ho anche sicuramente altre cose da dirvi che però ora non mi ricordo se siete interessati ovviamente fatemi controllare beh ho modificato di molto Twitch vi ricordo che ragazzi aventi abbonati su Twitch mostrerò un quarto della faccia quindi ehi perché non sfruttare l'occasione e niente e niente 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 direi che ho detto abbastanza tutto non dovrei dire molto ma sì direi che ho parlato di tutto vi ringrazio per la visione di questo video come vedete questa è l'unica Skyworks che ho perso eravamo rimasti in due e questa se l'è vinta di culo proprio quindi GG per lui peccato che io abbia perso ci rivediamo a un prossimo video che non sarà in post commentari lo giuro ciao ciao